La crisi come opportunità di cambiamento, questo è il presupposto del progetto C'era una svolta che il comune di Pordenone ha inaugurato mercoledì 21 marzo con un laboratorio che si è tenuto presso il deposito Giordani. 20 realtà, locali e nazionali, sono state invitate a presentare le loro esperienze di lavoro con il territorio e le comunità attraverso un dibattito sui diversi modi di considerare la crisi da criticità a opportunità, da problema a occasione di cambiamento. Il problema C'era una svolta è quello di cogliere l'opportunità durante la crisi di trovare energie, idee e forze che ci portano a sviluppare una nuova energia per il nostro futuro che in questo momento purtroppo è in piena crisi. Abbiamo cercato di affrontare alcuni temi e sono l'attivazione di processi auto-organizzativi all'interno dei quartieri per far emergere una sfera pubblica sociale e sviluppare un welfare locale partecipato, rompere quella rigidità, quella selettività, la freddezza burocratica dell'offerta di welfare tradizionale ed aprire varchi all'interno di un intervento attivo, competente e propositivo della domanda sociale. Ha preso il via così un progetto che attraverso la partecipazione, la formazione e la consulenza vuole sostenere lo spirito imprenditoriale delle persone fino alla costituzione di un'impresa sociale di quartiere.